Sofì si fa la maschera per il viso, la mette e Céline la guarda, dice ma questa chi è? Non mi aspetto di guardarmi in scioccata, ma pure sei diventata un puffo, un puffo, sei diventata un puffo. Ma che brutta è la mamma, ma che brutta è la mamma. Ma dove stiamo fatta messaggi? Céline la fissa proprio a Sofì, infatti la guarda e riguarda, ma non riesce a capire, ma non si spaventa. Certo, è la sua mamma.